è arrivato il momento ci siamo io sono già qua con il vinile songs of experience sono sono delle persone davvero speciali la musica per loro è un modo di raccontare il presente, il nostro tempo hanno accompagnato tutti noi in questi anni abbiamo il privilegio di averli ancora una volta qui ma io vorrei introdurli con queste immagini gli U2, eccoli qua Grazie a tutti SONS OF EXPERIENCE Sono 13 lettere d'amore Sì, e noi ascoltiamo due di queste lettere You're the best thing about me Get out on your own way Una dedicata alla moglie e l'altra alla figlia Ai figli al futuro Signore e signori You do it You do it SONS OF EXPERIENCE When you look so good You're the best thing about me 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 Why am I? Why am I walking away? 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti